Fiorello riflette sul suo percorso di vita, avrei voluto dedicarmi di più agli studi, soprattutto con la mia compagna. La fortuna ha voluto che ci incontrassimo solo da adulti. Questa sera, nel corso dello speciale del Tg1 intitolato Stasera parlo io, Rosario Fiorello si confida con il direttore del Tg della Rete Ammiraglia, Gianmarco Chiocci. Fiorello, nonostante i suoi quasi 40 anni di carriera, ammette di provare ansia di fronte alle interviste, mi sembra di non essere all'altezza, di dire sempre le stesse cose. Durante l'intervista, Fiorello tocca diversi argomenti, tra cui la carriera, Sanremo e la sua famiglia. La figura del padre emerge come punto centrale, ricordando il momento della sua morte quando Fiorello era a Sanremo. Il comico esprime il suo stupore nel rendersi conto di essere diventato più vecchio dell'età del padre, descrivendo un uomo divertente e cantante che, però, faceva un lavoro completamente diverso, essendo nella guardia di finanza. Il desiderio di Fiorello di diventare calciatore o tennista emerge, anche se riconosce di non avere le caratteristiche per diventare un campione, confessando con sincerità la sua natura egocentrica soprattutto nel calcio. Parlando dei nemici nel mondo dello spettacolo, Fiorello sottolinea che il pubblico è diviso tra chi lo ama e chi non lo ama, con i social media che ora rendono questo divario più evidente. Fiorello dedica delle parole di stima e affetto a Maurizio Costanzo, riconoscendogli un ruolo determinante nel suo percorso professionale e personale. L'amore duraturo con Susanna Biondo, conosciuta 27 anni fa, viene descritto come una complicità sia nella vita che nel lavoro. Fiorello rivela che è stata Susanna a spronarlo in molte occasioni. Infine, Fiorello parla dei rimpianti legati all'istruzione, esprimendo il desiderio di aver potuto studiare di più, in particolare la musica, imparare uno strumento e padroneggiare l'inglese. Con rammarico, ammette di aver rinunciato a molte opportunità a causa della sua mancanza di conoscenza della lingua inglese. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.